Io sono il tenente John Moss Dov'è il Moss? Mercoledì c'è un filmissimo Ciao, ciao, ciao Un filmissimo Ma dove è a casa? C'è un film Vi vorrei spiegare che È fuori dal mondo quello, è Peter Pan Ok, ok, ok Con Michael J. Fox Non vi costringete a usare questa Beh, una coppia che si sdoppia Che scoppia mercoledì Insieme per forza Una prima tv 20 e 40 Canale 5